Un saluto ai nostri telespettatori, un incontro ancora con il nostro deputato di Lega Nord Roberto Simonetti, si è conclusa la legislatura con lo scioglimento delle camere indetto dal Presidente della Repubblica, una nota importante e ancora riuscita a passare in questi giorni, il finanziamento di circa 80 milioni di Euro per la realizzazione dell'autostrada. Ecco, onorevole, ci spieghi un attimino che cosa consiste questo? Sì, si è conclusa la legislatura, sono state formalizzate le dimissioni del Presidente Monti, il Presidente della Repubblica ha preso atto attraverso le consultazioni dei capigruppo che non c'era più la possibilità parlamentare di proseguire appunto questa legislatura per mancanza di una maggioranza solida e ha sciolto le camere con le elezioni pare il 24-25 febbraio dell'anno prossimo. Quindi si conclude un quinquennio di lavori parlamentari che hanno visto la presenza anche del sottoscritto come prima legislatura. È compito del parlamentare locale oltre quella di seguire ovviamente le politiche del partito che lo ha espresso, che lo ha fatto eleggere per la Lega Nord, quindi tutta la partita del federalismo, poi la vedremo nel dettaglio. Abbiamo anche lavorato, è compito del parlamentare lavorare anche per il suo territorio e lavorare per il suo territorio significa trovare le soluzioni alle problematiche che esso ha. Il nostro problema del biellese è la mancanza di collegamenti diretti con il resto del mondo, siamo una delle pochissime province d'Italia, se non l'unica provincia d'Italia senza un collegamento autostradale. È un dibattito oramai pluridecernale perché la prima approvazione del progetto targa 2001 con l'allora vice ministro Martina che si inserì quest'opera nella legge obiettivo voluta appunto da Bossio e da Tremonti. Dopo 11 anni siamo riusciti a concludere un iter grazie allo sforzo territoriale comune fatto dalle amministrazioni comunali, dall'amministrazione provinciale che tra l'altro ho guidato proprio nella fase conclusiva della redazione del progetto preliminare, la regione, il ministero delle infrastrutture. Mancavano però 80 milioni di euro per riuscire a chiudere il quadro economico perché il progetto quindi ora finanziato potesse essere approvato dal CIP e dal Comitato Interministeriale per la programmazione economica, passare alla fase definitiva progettuale di progetto definitivo e quindi alla cantierizzazione. Se non si fossero trovati questi 80 milioni tutto questo processo di pianificazione urbanistica territoriale che da 10 anni stiamo portando avanti sarebbe caduto nel water non saremmo più riusciti a ottenere questo collegamento importantissimo per il nostro sviluppo perché ci mette in un contatto di rete fra la Torino-Milano e la Gravellona. Saremmo proprio un anello di congiunzione fra la Svizzera, fra tutto quello che ruota attorno al turismo dei laghi, sono più di 8 milioni di presenze annue su laghi maggiori e poi siamo di passaggio con la Val d'Aosta e quindi il Monte Bianco. Questo cuscinetto autostradale fa sì che Biella possa essere al centro di un nuovo modello di sviluppo e poi sarà compito dei biellesi attrarre a sé tutto questo passaggio che potenzialmente ci può attraversare. Com'è andata? È andata che abbiamo sollecitato animosamente tutti i ministri che si sono susseguiti in questa legislatura perché avevamo avuto il ministro Matteoli, il vice ministro Castelli, poi caduto il governo Berlusconi e sono arrivati il vice ministro Ciaccia, il ministro Passera, altri sottosegretari, io li ho contattati tutti, più volte ho portato i progettisti, addirittura nel primo anno di legislatura ero stato al ministero proprio con l'allora assessore Borioli, poi sono stato al ministero con l'assessore Bonino della regione Piemonte, poi anche con il senatore Picchetto abbiamo lavorato in sintonia moltissimo, abbiamo seguito tutta la progettualità assieme sul territorio al dottor Scanzio e all'ingegnere manto della CAP che è la società pubblica della regione che ha seguito l'iter progettuale. Abbiamo stancato tutti affinché siamo riusciti ad arrivare all'esito finale, un emendamento al Senato in commissione bilancio proposto dalla Lega Nord attraverso il senatore Garavaglia, mio tramite e dal senatore Picchetto e in questa legge di stabilità al photo finish, all'ultima votazione è entrata anche quindi questa possibilità di finanziare per il 2015 quest'opera per 80 milioni, la parte restante la mette la regione, quindi dobbiamo ringraziare il presidente della regione, l'onorevole Roberto Cote, l'assessore Bonino che stanzano gli ulteriori 120 milioni di competenza regionale, l'altra parte finale sui 400 milioni viene a essere emessa da un raggruppamento di imprese guidato dalla SATAP che ha appunto vinto il bando per la finanza di progetto, per l'associazione di lavoro e la gestione. Ecco, noi siamo appunto, la politica ha dato una risposta, i parlamentari biellesi, il sottoscritto, ha dato una risposta al territorio e questo ha un significato importante, ha significato che non è vero che non essere rappresentati sia ininfluente. Per il territorio biellese è necessario essere rappresentati a tutti i livelli, quindi in comune, in provincia, in regione e soprattutto a Roma in Parlamento, perché fin tanto che non si attua il vero federalismo, Roma ha comunque sempre i cordoni della borsa in mano e le politiche di Monti hanno fatto sì che in questi anni tutto quello che era stato devoluto ai territori è stato riappropriato dallo Stato, pertanto anche la prossima legislatura dovrà essere importante per la prossima legislatura avere dei rappresentanti biellesi a Roma che possono allentare questi cordoni della borsa a favore del territorio biellese, altrimenti saremmo dimenticati e quando uno è dimenticato chiaro è che non riesce a poter farlo sul territorio. Ecco, chiaramente ci vogliono dei rappresentanti biellesi che poi a Roma non stiano lì solo a scaldare la sedia e alzare la manina, ma che comunque facciano un certo lavoro a favore del territorio. Mi sembra che questo sia un risultato concreto che va al di là delle semplici parole, delle semplici promesse, dei semplici programmi politici che anche essi sono importanti perché tutta la parte legata al federismo fiscale che poi purtroppo PD e PDL hanno distrutto con la votazione dei decreti di Monti, il Salvi Italia, la Spendi Review, anche sulla legge di stabilità, ci sono delle parti che hanno ridotto i comuni e gli enti locali, province e regioni in mutande, di fatto sono tutti senza soldi perché l'Imu è stato spostato tutto allo Stato, le province hanno dei tagli così drastici da non poter chiudere i bilanci, le regioni hanno subito i tagli sulla sanità e dai trasporti che poi si ripercuotono sugli enti locali. Tutto questo pacchetto va contro quello che era stato organizzato e votato da Lega Nord che era la possibilità invece delle regioni di avere l'IRAP competitiva, ai comuni di avere delle entrate proprie da gestire squisitamente per i propri servizi e non da delegare allo Stato, per le province avevamo dato la possibilità di gestire le entrate in maniera più consona e più appropriata, tutto questo è saltato perché lo Stato ha la necessità di pagare il debito pubblico, gli enti locali, le famiglie, le casalinghe, le imprese pagano il debito pubblico che ha fatto lo Stato, che ha fatto il Parlamento. Comunque all'interno di tutti questi problemi la presenza a Roma di un parlamentare biellese del Lega Nord, che sono io e di Gilberto Picchietto, ha comunque dato la possibilità al territorio di vedere finanziata un'opera strategica per lo sviluppo del nostro territorio. Quindi cose concrete io le ho fatte e sono tangibili, quindi non sono parole ma sono numeri, sono leggi dietro appunto delle quantificazioni economiche certe. Ecco, tra l'altro poi diciamo tutto l'indotto che darà la costruzione dell'autostrada che durerà anche per qualche anno, ci sarà tutto l'indotto che comunque ricadrà anche sul territorio, su imprese, aziende e aziende biellesi. Bene, onorevole, è tempo di Natale, facciamo un augurio ai nostri telespettatori e quindi la parola a lei ancora. Sì, effettivamente oggi più che di politiche e quant'altro il messaggio è quello di formulare i miei migliori auguri di Buon Natale e di un sereno 2013 a tutte le famiglie biellesi certificando fin d'ora il mio impegno per dare sollievo a tutte le necessità che ovviamente incombono in questa situazione non sempre brillante. Sono conscio delle difficoltà, sono conscio delle situazioni che vive il nostro territorio e per questo mi adopererò sempre affinché risoluzioni come quella dell'autostrada, la concretezza, possano seguire alle mie azioni politiche. Quindi un augurio di sereno Natale e felice anno nuovo a tutti i telespettatori e alla redazione di Televiella. Grazie, onorevole, appuntamento al nostro prossimo incontro e sempre con l'onorevole Simonetti, finché la par condicio non ci tapperà la bocca, continueremo questi appuntamenti settimanali. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.